...fantastici, mentite benissimo. Ok, oggi, poi mi dite cosa volete fare voi esattamente, però io ci tenevo a darvi ancora uno spunto e poi abbiamo due possibilità per procedere. Volevo darvi uno spunto tornando alla questione del racconto, che ieri vi dicevo essere un po' la base da cui si parte e secondo me merita, come dire, di essere approfondita, perché se il racconto viene fatto in modo superficiale, anche se uno applica tutte le regole dell'ascolto attivo, anche se uno si impegna tantissimo a essere empatico, partecipativo e tutto quello che volete voi, se la materia di base, cioè se il racconto è un racconto un po' abbozzato, non se ne esce molto. Vi devo dire questo, quando si affronta una situazione di conflitto, le persone fanno molta fatica a raccontare con chiarezza. Ci sono quelli come mia mamma che ripetono le cose all'infinito, cioè ripetono il concetto più e più volte finché non ti è entrato in testa. E questo lo fanno anche via sms, cioè proprio anche via sms, nel senso è ridondante. Ecco, è la mamma, è quella è la mamma. Perfetto. C'è chi invece ti liquida in tre parole? Ok, è stato lui. È colpa sua, io non c'entro, è andata così. E vabbè capita, insomma ci sono quelli che la fanno un po' troppo breve. In realtà nessuno in quel momento ha la lucidità e la voglia di parlare. Ed è uno dei motivi per cui si fa la cosa della riformulazione che vi spiegavo ieri, no? Riformulare ma ho capito bene, intendevi dire questo. Un po' serve a spegnere gli animi e un po' serve anche a cercare di ottenere un racconto sempre più ricco di dettagli di quello che è successo, perché insomma noi non eravamo presenti e quindi lo sappiamo solo attraverso le parole di chi ce lo racconta. Un'altra cosa va detta ed è che purtroppo, o per fortuna, anzi direi per fortuna, alla base di qualsiasi negoziazione ci sta un rapporto di fiducia. Si deve riuscire a creare un rapporto di fiducia. La fiducia passa attraverso quella che gli americani chiamano la trustability, cioè la tua capacità di essere credibile, degno di fiducia. Cosa succede? Che molto spesso tu non hai il tempo per costruirti questo rapporto. Nel senso che se qualcuno viene da te perché sei tu, perché ti conosce, perché ti stima, ti apprezza e in più sa che fai il facilitatore, ok. Ma se uno viene da te perché è mandato dal suo capo o perché appunto come vi dicevo ieri a volte viene deciso un po' dall'alto e non sa chi sei e anzi magari ti associa pure all'amico dell'altra parte, eccetera, questa questione della credibilità e dell'essere degno di fiducia ovviamente è molto sottile, no? A me è successo un sacco di volte che, allora io facevo questo, iniziavo i miei processi partecipati stando sulla panchina, non sul balcone, sulla panchina. Nel senso che io arrivavo in questi quartieri, c'era di tutto, io non sapevo neanche da che parte iniziare, quindi mi sedevo sulla panchina e aspettavo a volte per giorni, settimane, che qualche anima, pia, un ragazzino, qualcuno mi si avvicinasse per chiedermi cosa ci facessi sulla panchina, perché non me la sentivo di andare a suonare, a chi vai a suonare, cioè chi chiami, no? Da che parte si comincia? E quindi io stavo sulla panchina finché non arrivavano di solito prima i bambini e ti diciano hai bisogno di qualcosa, ti sei persa, che ci fai sulla panchina tre giorni? Tu dicevi, no, 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 ma voi abitate qua, com'è questo posto, come ci si sta? I bambini in tre parole tornavano a giocare, però poi ti mandavano il fratello più grande o la sorella più grande. E allora arrivava la sorella più grande, oh ma c'è qualche problema? Così, cosa? No, no, ma tu invece stai qua, allora come va, raccontami, così, vabbè, finché non arrivavano le mamme, oh, le nonne, le zie, i cugini, qualsiasi, ogni tanto passavano le ronde, però loro potevo dire che ero lì per un bel il comune, sai, e quindi va bene, se non passavano i tossici a chiederti se avevi bisogno. Sì, esatto, no, ma si vedeva che c'è. Ha funzionato sempre, ha sempre funzionato, a volte ci voleva un mese, ma insomma funzionava, un freddo cane, però funzionava. E cosa succedeva? Che poi le mamme iniziavano a dirsi, ma non stare sulla panchina, ma vieni ti faccio un caffè, entriamo, no, parliamo. E tu allora finalmente a una o due di queste iniziavi a spiegare, sì, dobbiamo fare questo processo, stavo cercando di iniziare a capire com'era questo quartiere, mi piacerebbe che me lo raccontaste voi. E da cosa si parte? Si parte da quelle che si chiamano interviste su base storia di vita, che oggi si chiama storytelling, interviste su base storia di vita o storytelling, ma che di fatto sono il racconto di alcuni aneddoti. Perché uno non è in grado di raccontarti tutta la sua vita nel quartiere o di raccontarti cosa va e cosa non va nel quartiere. Ti sa dire cosa va e cosa non va per lui rispetto alla sua esperienza, che però è molto legata alla vita che sta facendo, ai disagi che ha avuto, alle cose che lo preoccupano. Quindi questi partivano raccontandoti del figlio in galera, del marito disoccupato, dell'azia che sta male. E io lì come architetto. A me sinceramente mi spiaceva, però non potevo fare niente per i loro parenti. E quindi però raccogli storie e dentro queste storie c'è sempre qualche cosa che ti racconta anche del contesto in cui queste storie si svolgono. Allora la mia attenzione non era tanto a tutte le sfortune di famiglia, per carità, dopo anche perché venivano indirezzati anche alcuni aiuti in alcuni casi ovviamente. Però tipo se il figlio tossico vive abusivamente nelle cantine di spaccia questa cosa andava gestita. Non è che una volta che me l'ha raccontata potessi dire ah vabbè, pazienza. A me interessa sapere che ci sono le cantine occupate. Cioè insomma, no. Però va bene, poi dopo cercavi gli aiuti da mandare alla famiglia, eccetera, eccetera. E anche perché noi lavoravamo sempre in equip, nessuno di noi era da solo, per cui c'era lo psicologo, c'erano i servizi sociali. Ovviamente avevamo tutti gli aiuti che servivano. E io ero il facilitatore. Sulla macchina eravate in equip o tu eri sola? Ero da sola, perché, come dire, i ruoli quelli fondamentali mi eravano mollati tutti a me. Gli altri stavano in ufficio, capito? Inizio faccio i dati. Sì, 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 sì. E quindi niente, insomma, io raccoglievo racconti all'inizio. Cosa succedeva? Mi sono accorta molto presto che mi raccontavano palle. Cioè, mi raccontavano cose non vere. Assolutamente sì. Ti mettevano alla prova. Più raccontano una cosa, la prima che gli viene in mente. Poi tu li rincontri, gli dici, allora, come va questa situazione? E questi mi guardavano, che situazione? Ma lei mi ha raccontato l'altra volta la zia, il cugino, il fratello? Ah, no, ma no. Non era vero. Ah, no, sì, tutto bene, tutto bene. Allora capivi che non era esattamente quello che ti volevano raccontare. E gli dicevi, ma no, vabbè, questa volta mi racconti invece qualcosa di più. Io ho bisogno di conoscerlo questo quartiere, sennò come faccio ad aiutare? Anche solo a raccogliere i vostri bisogni, a capire... Il secondo racconto era più realistico. Alla terza usciva la storia vera. Alla quarta, a volte. Perché poi c'è tanta paura di raccontare cose che è meglio non raccontare, di portare lì la polizia, di portare lì... Non so, non sai mai... Cioè, loro non mi conoscono, quindi io non ho credibilità all'inizio. Ed è sulla base di questo che... Sì. Affidabile o no? Sì. Esatto, esatto. Loro ovviamente dietro avevano una serie di cose che non andavano fatte, che quella più pulita era il lavoro nero, ma insomma c'era di tutto in quei posti. Per cui, ovviamente, loro si tutelano molto a vicenda e anche i bambini vengono cresciuti nell'omertà. Cioè, si sta zitti, non si racconta. Per cui, per far... Io all'inizio ero bella, capito? Per me tutti ti dicono la verità sempre. Cioè, felici di vedermi sulla panchina, capito? Per me era scontato. E invece assolutamente no. E quindi ho imparato, ho scoperto che bisognava costruire questa fiducia. E questa fiducia stava anche nel fatto che loro ti vedessero lì tante volte, passare lì tanto tempo, dedicare a loro tanta pazienza, ascoltarti anche tutte le storie di cui non te ne fregava niente prima di arrivare ad avere il permesso di entrare nel loro appartamento a controllare se nel bagno c'era l'amianto, questo dovevo fare. E quindi... O se il loro appartamento era sottodimensionato rispetto al numero di persone per dargliene uno più grande. Cioè, in realtà, noi dovevamo fare un lavoro di questo tipo. Però era molto... Cioè, partivamo da nessuna conoscenza del quartiere, perché sono quartieri in cui la gente non venivano fatti dall'amministrazione o dal... nel caso, non so, dall'Aler, dal... non so... Non venivano fatti lavori da 60-70 anni. Nessuno ci metteva piede. Ma non poteva entrare un tecnico e dire quanti si era da abitare qua? Era un modo troppo violento. Noi volevamo fare un processo partecipato. Se tu gli mandi il tecnico, il tecnico va dritto. Allora tu cercavi di capire, li conosci, ci bevi il caffè, ci chiacchieri, e poi pian piano ci vai con il tecnico e poi ci va il tecnico da solo. No? Nel senso, facevamo un approccio un po' soft, perché all'inizio questi non si vedessero più in bar. c'è gente che un giorno voleva vedere il bagno, un giorno la scala, un giorno il tetto, un giorno... perché poi non è lo stesso tecnico che fa tutto, ovviamente. E sarebbe facile. Devono andarci in 15 a vedere casa loro. Insomma, tu immaginati, vuol dire che la casa va messa in ordine, che questo entra e si fa i fatti tuoi, che insomma... Poi ha scoperto, tra virgolette, questo secondo passato, si è intratto, cioè nel senso che ha cambiato idea... Allora, diciamo che qualcuno si è offerto di fare da pripista. Nel senso che loro sapevano che poi c'è la vecchietta che vive sola e che non è contenta di aprire casa sua a nessuno, perché ha paura. E allora ti dicevano, però il mio appartamento è fatto uguale al suo, controlli il mio e poi, casomai, se proprio c'è bisogno di entrarne nel suo, tra un paio di mesi io intanto vado su, le porto la zuppa, ci chiacchiano, e tra un paio di mesi andiamo a vedere anche il suo, e poi iniziamo a partire dal mio, da quello di mio fratello, da quell'altro di Gigi che lo conosco, eccetera. Ne vedi un po' per tipo e capisci come funziona e dopo entriamo in quelli più difficili. E per me è stata una vera palestra di vita, nel senso che davvero capisci che le persone vanno assolutamente rispettate, e questo uno lo sa in partenza, però che il rispetto passa da cose molto piccole, veramente da fare un passo leggero dopo l'altro, cioè bisogna andare in punta di piedi, tu stai entrando nelle vite degli altri. Sì, è molto diverso chiamare la gente a decidere cosa fare della piazza. Va bene a tutti perché sei fuori casa, la piazza è di tutti, frega niente, chi vuole viene, chi non vuole non viene, chi vuole partecipare al processo partecipa, chi non è interessato sta a casa sua. Ma se tu stai lavorando proprio sulle loro realtà, insomma lì ti scontri con delle cose un pochino più delicate. Noi per fortuna avevamo tempi lunghissimi, però sì ci siamo dati delle scadenze. Noi avevamo all'inizio tre anni, che poi sono stati tre più due, per cui avevamo veramente dei tempi lunghissimi che ora non esistono più. Non te li da nessuno, non ti paga nessuno per cinque anni. Esatto. Tre anni per arrivare a... cioè ci sono stati fatti anche i lavori? Tre anni, sì, tre anni che sono stati fatti anche i lavori a Torino. Questo era a Torino ma è stato fatto anche a Milano, è stato fatto anche a Bari, il progetto Urban, credo in centro. Sì, a Barirecchia. Barirecchia. I progetti erano due, i grossi canali di finanziamento di questo tipo sono stati due. Sono stati i contratti di quartiere che pure credo siano stati fatti da qualche parte anche qua. Non so dove però, non mi ricordo. E il progetto Urban. Il progetto Urban in realtà nasceva in Francia per i centri storici decadenti. Al sud effettivamente hanno usato i centri storici, a Palermo, a Bari. Invece a Milano, a Torino hanno scelto le periferie lo stesso perché avendo deciso che c'erano già dei progetti insistenti sulle periferie e loro volevano finire di portare i finanziamenti lì. A Napoli invece è stato in centro perché i quartieri spagnoli sono in centro. però non è che lo puoi definire c'è, nel senso sì, non è il centro turistico, ecco diciamo è un quartiere difficile. Va bene. Questo è un processo che chiamava il processo partecipato. Ilaria. Ilaria. Quello lì era un processo partecipato, nell'ambito di quel processo partecipato poi abbiamo avuto conflitti e tutte le cose che vi raccontavo ieri, però era nell'ambito di una cornice più ampia. Noi avevamo, diciamo, come entravamo in queste cose, entravamo appunto coi piedi di piombo. Ma qualsiasi lavoro io abbia fatto dopo, qualsiasi parte per me da un'intervista in cui mi faccio raccontare degli aneddoti. Anche adesso che vado nelle aziende non accetto di lavorare per un'azienda se non mi concedono almeno due giornate in cui io posso parlare con le persone. Perché non mi interessa niente andare lì a risalvere un conflitto che non conosco, con gente che non conosco. Non mi interessa a me ma non sarebbe produttivo per loro. Perché vuol dire che la prima volta che tutti insieme, incavolati tra di loro, mi raccontano una cosa, mi stanno raccontandola qualunque. E questo non funziona. Quindi diciamo il mio primo invito è quello di fare un racconto che valga. E un racconto che valga passa attraverso alcune fasi. Fasi che non dovete raccontare a loro ma che io racconto oggi a voi perché vi servono come traccia, come guida, come... Allora, qualsiasi storia, insomma qualsiasi racconto è una storia, qualsiasi storia si compone di una serie di passaggi. Ok? Ed è sempre il tentativo di passare da una situazione ordinaria a una situazione straordinaria per poi trasformare la situazione straordinaria in qualcosa di ordinario un'altra volta. Quindi uno affronta una cosa... Ti racconta un episodio che è un episodio significativo ovviamente, no? Per cui ti sta raccontando qualcosa che a lui ha cambiato un po' la vita. Ok? Magari una cosa microscopica, magari il fatto di aver litigato con quello gli sta rovinando la vita. Insomma, no? Qualcosa che effettivamente ha cambiato il suo modo di stare. Questo è l'ordinario. Questo è il passaggio dall'ordinario allo straordinario che è quello che tu ci metti in questa cosa per cercare di risolvere e poi speri che da lì nasca un nuovo tipo di ordinarietà. Ovviamente hai imparato qualcosa. Il quotidiano. Il quotidiano. Il tuo quotidiano. Quello che per te è la normalità delle cose. Ok? Ma tu come fai a rinvizzare verso il conflitto? Cioè, se tu inizi a parlare non ti racconta la guerra? Cioè, tu devi chiedere già specificatamente? No. Tu gli chiedi di raccontarti cosa è successo. Comunque si abbia un problema. Allora, se stiamo lavorando su un conflitto gli chiedi di raccontarti cosa è successo, come siamo arrivati a questo problema. Se sto lavorando invece per conoscere un quartiere gli chiedo di raccontarmi alcuni episodi. Mi racconti un episodio della tua vita in questo quartiere giusto per capire come ci si sta, com'è, che posto è, come ci si vive. Perché descrivertelo per sommi capi ti dicono guardati attorno, vedi anche te com'è. Se invece tu gli chiedi sì ma come ci si vive, raccontami un episodio. Comunque poi esce il conflitto. Non necessariamente il conflitto, esce una sua storia. Allora, dividiamoci. Sono situazioni in cui il conflitto non c'è. Ok. Ci sono solo delle gita. Ci sono situazioni, su cui ci stiamo concentrando noi in questi giorni per questo corso, che sono più legate ai conflitti. Ma non c'è sempre un conflitto. O meglio, ci sono magari tanti micro-conflitti che però non sono così importanti. Si gestiscono da soli, certo. Allora, quello su cui adesso vorrei fare una pausa è appunto la questione del racconto, stavo dicendo. Per cui il racconto vale per tutto, vale per le situazioni di conflitto o di non conflitto. Sicuramente in una situazione di conflitto queste cose sono più difficili da notare, da leggere, perché uno le carica di patos e quindi te le racconta in maniera angosciata, arrabbiata e con una giustualità e una fretta di arrivare a dirti che ha ragione lui e trascurando una serie di cose. Invece io vi chiedo, piuttosto di fare delle domande che riportino a raccontarvi veramente tutti i passaggi del racconto, perché sennò è difficilissimo poi passare a capire quali sono le posizioni, qual era il terreno comune, qual è l'interesse comune, via dicendo. Se avete un racconto sommario è difficile riuscire a fare gli altri passaggi che abbiamo visto ieri. Ok. Scusami, mi fa un po' pensare a questa cosa che ho fatto con un laboratorio di sceneggiatura, no? In effetti nelle sceneggiature dei film viene costruito così, cioè che si parte dall'ordinarietà della vita e poi dopo pochi minuti, in generale 7-8 minuti, si arriva all'elemento scatenante che provoca il cambiamento per poi ritornare a una nuova normalità. È un po' quello che succede in realtà nei racconti poi, alla fine. Sì, provate a pensare a voi stessi e di fatto non dura 7-8 minuti, l'ordinarietà per fortuna dura tanto, di più, no? Però nel momento, perché ti senti in conflitto o senti di avere un problema o anche una grande gioia, è qualcosa che interrompe la tua normalità, no? Tu ti accorgi che ti senti spiazzato e non sai come gestirti e non sai come gestire la situazione quando hai una grande gioia o un grande problema che esploda a un certo punto o un conflitto che ti spiazzano rispetto alla tua ordinarietà. Il conflitto è più interessante in questo senso per noi, perché la grande gioia o il grande dolore sono qualcosa che accogli così come ti viene o purtroppo ti è capitato e non ci puoi fare niente. Cioè devi gestirti, devi rielaborartelo, però è un'altra cosa, non è qualcosa per cui puoi chiarirti con qualcun altro. Il conflitto invece sta un po' nel mezzo, è quella cosa che ti spiazza però che sai che puoi arrivare a gestire, no? Con l'aiuto di qualcuno, magari non da solo, però puoi arrivare a gestire o chiarendoti con l'altra parte. Invece purtroppo il grande dolore è qualcosa che sta sopra di te e devi affrontare accettandolo in qualche misura e dall'altra parte la grande gioia è qualcosa che si ti spiazza, ma meno male che ti spiazza, insomma. Per cui sì, è un po' diverso da un film, però di fatto i film ricalcano il più possibile episodi di vita, perché chi lo guarda si possa riconoscere. Ok, quindi c'è sempre uno stato di partenza, diciamo. C'è un momento in cui tu ti senti tranquillo e poi ti capita sta cosa. Ti capita un conflitto e in qualche modo sei chiamato a intraprendere l'avventura, ok? Sei chiamato a gestirti questa cosa, devi in qualche modo affrontarla. A quel punto la vera questione è, io affronto il conflitto da solo? Affronto il conflitto prendendo una persona con me che mi spalleggi, che mi sostenga, oppure che la pensa come me, che come me ha vissuto quell'episodio e quindi mi dà forza e siamo in due, o siamo in gruppo, oppure affronto quel conflitto chiamando un mediatore, un facilitatore, qualcuno che mi aiuti a ricomporre il conflitto. Insomma, lì si tratta di capire quali sono le forme di assistenza possibili e di cui tu ti... come dire, da cui ti fai spalleggiare per riuscire a affrontare questo conflitto. E poi si parte. Si parte ad affrontare questo conflitto. A quel punto uno fa diversi tentativi. Ci sarà la prima volta in cui vai e ti incavoli. Vai e gli dici tutto quello che pensi. Fai a botte, non lo so di perito. Ci sarà la volta in cui tenti una via un po' più moderata. La volta in cui mandi l'altro che è più bravo a parlare e non si incavola come te. La volta che fai un discorso col facilitatore chiedendogli di assumersi in carico questa cosa, di aiutarvi a negoziare, eccetera, eccetera, si fanno un po' di tentativi. Non è che è buona la prima. Un pochino bisogna provare e riprovare, no? A un certo punto però arriva il momento in cui questi mostri, questo conflitto, questa cosa che ti sta angosciando, sta anche crescendo dentro di te. Perché tutto questo processo mentale, tutto questo percorso che hai fatto più in qua è un percorso che hai fatto con ansia crescente, con fastidio crescente, con rabbia crescente. Quindi quella che era la formichina sta diventando sempre più un ippopotamo e tu speri che questa cosa o si risolva in fretta o comunque se non si deve risolvere si tolga di tono, te la dimentichi, insomma, che vuoi uscirne, vuoi tornare alla tua normalità. E a quel punto si tratta di scegliere l'approccio, appunto. Quello che abbiamo visto ieri è uno degli approcci possibili, ce ne sono altri più violenti, meno violenti, ce ne sono altri di vario tipo. Nel nostro approccio quello è il momento in cui iniziano i racconti. E i racconti fanno venire fuori un po' tutto, no? Perché nei racconti tu metti le carte sul tavolo. E ieri dicevamo se visualizziamo il racconto a maggior ragione esce da te e è lì da guardare, ma c'è tutto, senza sconti. Scusa, ma ci sono sempre le due parti? Le due parti, assolutamente. Se no non si può fare una negoziazione. Se no vai da un tuo confidente, ti fai dare un consiglio, ma è un'altra cosa. Ok, inizia l'approccio e a quel punto entri in crisi. Sei passato da qualcosa che riuscivi a gestirti che era la tua ordinarietà a qualcosa che per te è straordinario, non è la tua normalità. E sei in crisi. Sei in crisi perché ti sei svuotato magari, sei riuscito a mettere tutto fuori, ma le certezze che avevi prima mentre eri arrabbiato sono crollate. Non hai le soluzioni? Non hai le soluzioni? Sì, 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 no, 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 tu devi essere, quello è il momento in cui devi essere integerrimo, perché se no, se piangiamo tutti non ne usciamo. L'altro giorno mi è successo appunto che la maestra e il mio figlio gli hanno dato una nota, io vado dalla maestra e questa scoppia a piangere, dispiaciuta, per avergli dato la nota e ho detto no, 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 vai Serena. Continua pure, sai, non sapevo cosa dire. Brava, brava, brava. Così si fa. Non l'avevo mai sentito, perché il caffè è stato piangere. Ma non so, l'aveva pianto anche davanti al mio figlio mentre gli dava la nota, quindi per il mio figlio era festa grande, cioè non c'era. No, è giovane, è giovane. A 25 tutti così, cioè veramente non so come faccia, sono scatenatissimi. E quindi, bene, comunque quello è il momento della crisi, il momento in cui tu effettivamente t'affidi a un facilitatore o effettivamente decidi di affrontare questo problema, l'hai tirato fuori, l'hai raccontato, è il momento in cui tu sei in crisi. Ma è anche il momento in cui il facilitatore finalmente può agire. e il facilitatore in quel momento ti chiede 67 volte di ripetergli il racconto, di chiarire, di argomentare, di riformulare, ti fa le domande e tu sei in quello stato in cui devi arrivare a fidarti ma ancora non ti fidi, ma pian piano ti apri. È quello il momento in cui è bene far venire fuori non soltanto gli elementi del conflitto, ma le risorse che le parti hanno davvero per affrontare quel conflitto, cioè fargli capire che sì, è successa questa cosa, ma tu sei in grado di trovare delle soluzioni spettacolari con l'altra persona e viceversa, perché hai delle risorse, quali sono, quali sono i tuoi tesori, quali sono le cose che effettivamente in questo momento puoi mettere in campo per uscire da una situazione di conflitto e anzi trasformare quella situazione di conflitto in un'occasione. Quindi questo qua è proprio il momento vostro, non so come dirvi. Questo qua è il momento vostro. Fargli guardare in faccia i mostri e fargli vedere i loro tesori, è importantissimo. Ok, tenetelo presente perché quello lì è il cuore. E poi a quel punto si vedono i primi risultati. Siamo alla batna, perché ieri c'era. Siamo al momento in cui uno dice, ok, allora se però io ho queste risorse, questi tesori, posso anche provare a tentare una soluzione. Io le butto lì. Secondo me le soluzioni possibili sono questa, questa, questa. Secondo l'altro sono questa, questa, questa. Quella che ci piace di più è questa qua. Ed è il momento in cui abbiamo capito che possiamo avere un interesse comune e che abbiamo una batna. Ok. E siamo qua. C'è un esempio? Dopo, dopo, dopo. Aspetta perché sennò non vi torna tutto quanto. Ok. Siamo qua. Iniziamo ad avere dei risultati. Poi questi risultati si affinano, si ricerca, si esplora, si trovano soluzioni migliori. Il facilitatore suggerisce soluzioni migliori, si cerca di portare più in alto l'asticella. Insomma, si arriva a capire cosa si vuole fare. Se ne sceglie uno, ci si responsabilizza, dicevamo ieri, e siamo pronti ad andare avanti. A quel punto il facilitatore ti saluta. Saluta anche l'altro. Ciao, ciao. E questi, ahi noi, no, no, proprio se ne va a casa sua, finalmente si alza dalla panchina e non ci torna mai più, e tu ritorni alla tua vita, ritorni al tuo mondo ordinario, ritorni alla tua quotidianità. Certo, hai la responsabilità di far funzionare la soluzione che avete trovato e hai un nuovo rapporto con questa persona con cui hai avuto un conflitto che ovviamente all'inizio va un po' ripensato. Quindi è vero che ritorni alla tua vita, ma è una nuova vita, perché tu hai delle consapevolecchie diverse tu te stesso e anche sulla situazione che si è modificata. E a quel punto devi trovare il tuo modo di stare in questa nuova vita. E lì è un percorso diverso però, è una cosa tua. Che non riguarda il facilitatore. Che non riguarda il facilitatore, nel caso riguarda altre figure, un counselor se ti serve, ma che puoi anche gestirti te, nel senso non è la fine del mondo adesso. Però, appunto, sai, sei consapevole, sei anche consapevole di avere delle risorse pazzesche, per cui sei pronto a rivedere alcune cose per non ritrovarti in quella stessa situazione di conflitto. Ti troverai in altre, ma non in quella, non ricaderci. E quindi sei pronto a un nuovo stato di partenza. E via così, la nostra vita è fatta così. Ok? Questo è il compito anche del facilitatore di dire quando si stacca di dire alla persona adesso, però... Adesso hai queste risorse, hai trovato la soluzione, hai la responsabilità, ma ce la puoi fare, vai. Però... Adesso tocca a te. Certo, io me ne vado, ciao. No, no, no. Ma ci ricordiamo di parte. Assolutamente, assolutamente. E non è partito lo stream, parte fra dieci minuti. Magari quando parte vi faccio quello con minimo. Facciamo la sintesi. Ok. Allora. È chiaro questo percorso? Sì. Ok. Questo magari vi può aiutare nel farvi fare dei racconti che effettivamente siano efficaci. Voi sapete che a un certo punto, quando loro iniziano a raccontare, sono in questa fase qua e hanno i mostri e non vedono i tesori. E quindi dovete un pochino... Non c'è una risoluzione per il live? No. La risoluzione è il momento... Perché viene dall'inglese, non è la parola migliore. Però è il momento in cui tu cerchi di capire come stare in questa nuova condizione. Cioè, come gestirti i nuovi talenti che hai scoperto di avere, come gestire la risoluzione che tu hai... Eh, non hai... Sì, ma ci ringrazio una risoluzione. A risoluzione, ma possiamo chiamarlo... Visualizzazione, insomma, una cosa di... Nuova consapevolezza, non so come... Risultato, 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 dai, un risultato. Consapevolezza, insomma. Ok. Perfetto. Allora, esempi. Esempi qualsiasi, nel senso che... Raccontavo ieri sera a loro a cena di questa azienda con cui mi sono trovata a lavorare. È un'azienda che fa cavi d'acciaio, con lì per l'alta tensione. E ha otto sedi in Italia. E siccome sette sedi su otto andavano molto bene, hanno deciso di farsi quotare in borsa. E hanno deciso che, siccome il valore dell'azienda era cresciuto grazie al valore del lavoro dei loro operai, hanno deciso di proporre ai loro operai di acquistare delle azioni dell'azienda per un prezzo simbolico di un euro. Come dire, è il nostro ringraziamento perché, se siamo quello che siamo, lo dobbiamo a voi, no? Quindi un processo virtuoso, diciamo. E nazionalizzata era? In Italia, in Italia. Sì, 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 sì. Come si chiama? Non si può. Ci abbiamo anche i due corpi. Non si può. Comunque, insomma, bravissimi. E l'ottava sede, però, che è a Caserta, era in un momento in cui aveva 200 persone circa in cassa integrazione. Perché? Perché mentre gli altri avevano più clienti, la sede di Caserta in particolare, storicamente, lavorava per Enel. Faceva i cavi per Enel. Ma Enel, l'anno scorso, ha messo in cassa integrazione 5.000 persone e quindi non faceva più richiesta di prodotti, per il momento era tutto bloccato e loro avendo un solo cliente, essendo monomandatari, non potevano, non ne uscivano, insomma. Per cui avevano messo temporaneamente in cassa integrazione queste persone con la promessa di reintegrarli. E nel frattempo stavano cercando di capire quali clienti potevano spostare su quella sede, insomma. Si stavano riorganizzando, però non sono processi velocissimi, perché poi il cliente è abituato a lavorare con quel fornitore, se glielo sposti, non è comodo, insomma, sai. Per cui avevano questo conflitto interno, diciamo, che da un lato loro stavano crescendo e stavano in un momento bellissimo, virtuoso, eccetera, però questi, come lo vai a dire, ti vendo l'azione ma intanto sei in cassa integrazione. Cioè, era veramente un po' sbilanciato, no? E allora hanno chiesto a noi di andare a spiegarglielo, sostanzialmente. E quindi io sono andata in questa azienda e l'idea che avevamo avuto era, facciamo così, noi li disturbiamo nell'unico momento in cui in teoria possiamo interrompere il lavoro. È vero? Avremmo a che fare non con quelli che sono a casa in cassa integrazione, ma con quelli che sono lì. Li disturbiamo nel momento della pausa, andiamo nel loro refettorio, mangiamo con loro e intanto raccogliamo le loro storie per vedere insieme e le visualizziamo per vedere insieme effettivamente che contributo importante stanno dando alla loro azienda. Quanto valore stanno dando? Ragionando sul fatto che speriamo che la situazione di Enel sia transitoria, che l'azienda sta cercando di portare nuovi clienti e che dall'altra parte inizia a essere quotata in borsa, vuol dire che è un'azienda solida di suo, che quindi non rischiano un vero licenziamento definitivo. Però, secondo me, era tutto un po' campato per aria. Io sono partita con speranza zero proprio. Ci ho detto qua ci massacrano, entriamo e ci accompagnano all'uscita. Tra l'altro ci ho anche messo ore ad arrivarci, non trovavo la strada, mi sono persa, ero disperata. Sono arrivata lì e lo scenario era tutto diverso. Intanto ci hanno detto che a tavola si parla del Napoli. E non c'è proprio... Della loro azienda che avevano fin sopra i capelli, a tavola no. Però ci hanno portato, tutti quanti, ci hanno chiesto di raccontarci la loro storia in quell'azienda vicino alla macchina con cui lavoravano. Perché ne andavano molto fieri. Tra l'altro in quella sede di Caserta c'è una macchina che si chiama P-Laser, che taglia e cavi in un certo modo e che esiste solo lì in tutta Europa. Quindi loro erano molto fieri delle loro macchine, molto fieri delle loro capacità. E chi lavorava al P-Laser in particolare si sentiva un maestro, non so come dirvi. Questa cosa fortissima loro l'hanno voluta fare vicino alle loro macchine. Allora ci hanno chiesto di fotografarli con le loro macchine, di disegnarli con le loro macchine e di disegnare il loro racconto in quel contesto. Un gran casino perché per terra era bagnato, perché questa fa cavi, quindi c'è eri. E per cui io non sapevo dove appoggiare i fogli, insomma va bene. Però, bellissimo, io ho raccolto delle storie che mi hanno veramente fatto rizzare i peli, per quanto erano belle. Perché loro raccontavano di, non so, di tutte le volte che, intanto alcuni di loro lavoravano da generazione, ci lavorava il nonno, poi il padre, poi loro. E ci tenevano un casino a continuare questa tradizione. Quindi il fatto che magari uno rischiasse il posto era non più tanto un problema, oddio, perdo il posto di lavoro, che c'è, che c'è. Ma era soprattutto un problema, oddio, interrompo quello che è il nostro lavoro, da una vita, una catena di valore anche familiare. Giulio. E' partita, un buongiorno a tutti. E a quel punto cosa succedeva? E poi mi raccontavano storie, non so, di quando loro si paravano a vicenda, anziché andare a dire al caporeparto, devo uscire un'ora prima, o mio figlio è malato, oppure mi sono fatto male, vado a farmi vedere. C'era qualche collega che faceva un turno e mezzo, anziché in modo da coprirlo, senza bisogno di far venire fuori un controllo, eccetera, eccetera. E addirittura c'è stato un signore che si è fatto male, 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 lavorando lì, e doveva stare a casa dei mesi, invece è andato a lavorare lo stesso fasciato con le stampelle, le due gambe che non potevo utilizzare, così per gli era caduto un cavo sulle gambe, ma ha continuato a lavorare perché non voleva creare problemi all'azienda, perché l'azienda è la mia famiglia, diceva. E gli altri allora facevano le cose più pesanti al posto suo e cercavano però di coinvolgerlo, di farsi dare il consiglio, se era arrivato uno nuovo gli dicevano spiegagli tu, che sei più bravo, insomma, che così. E per cui c'erano storie proprio molto belle. E a quel punto, quando ho finito di raccogliere le storie e sono andata a parlare con gli amministratori, con i capi, a me non era più chiaro dove fosse il conflitto, perché in realtà loro non stavano vivendo, avevano grande fiducia nel fatto che l'azienda avrebbe assolutamente riassorbito quei 200, cioè che era una situazione che era capitata, come in tutte le famiglie ci sono i momenti difficili. Ma i proprietari erano coscienti di tutte queste storie? Non ne sapevano niente, perché tra l'altro il responsabile di quella sede, essendoci stato un momento così delicato, se ne era andato, e lì avevano mandato uno nuovo che era lì da tre mesi e diceva, cioè stava pensando a trovare clienti, non a chi lavorava lì, insomma. E come si sono rimasti? Felicissimi, felicissimi, a maggior ragione felicissimi. Quelli che già erano convinti che la loro fosse un'azienda di valore, hanno avuto, come dire, la riprova che lo fosse. E soprattutto le storie di questa sede sono girate nelle altre sedi, come dire, a raccontare anche agli altri che non solo hanno valore per come lavorano, hanno valore per le persone belle che sono, per la capacità di fare gruppo che hanno, anche per queste robe che non si fanno, di non dire al capo, cioè, non è giusto, non è corretta. Però tutto sommato la voglia di far funzionare le cose. Ma scusate, come ti ripresentate? Io loro lo sapevano, ero mandata per spiegargli la trasformazione che stava avendo l'azienda, che diventava un S.P.A., diventava una società putata, e che c'era questa possibilità di acquisire le azioni, non credo di averglielo neanche detto alla fine, cioè credo che ero totalmente, io avevo le lacrime, ero, sorridevo, piangevo, sembravo un arcobaleno, ero un momento veramente difficile, però pensavo, pensavo, cavolo, vedi, quella che da fuori sembra un conflitto, a volte un conflitto non è, perché le persone poi riescono a metterci veramente tanto, e qui per me è stato facilissimo lavorare su questo. Sui tesori, perché effettivamente sono i valori, sono le loro capacità, sono le astuzie che riescono a mettere in campo per dare ancora più valore a quello che fanno, e ce l'abbiamo tutti, in tutte le situazioni. Siamo capaci di tirare fuori delle risorse che non sappiamo di avere, spesso si dice succede, è vero, e nel loro caso in particolare è stato assolutamente così, quindi poi quello che era un conflitto, so che adesso alcuni sono già rientrati, altri rientreranno nei prossimi mesi. Quindi non è un conflitto conflitto? Cioè ti è arrivato a risolvere un conflitto? Loro, come capi, lo vivevano come un conflitto. Per il fatto dei cassi integrati? Perché era una sede su otto. Cioè loro dicevano, è come se noi, per il fatto dei cassi integrati, giusto? Per il fatto dei cassi integrati, e come loro dicevano, è come se noi stessimo trascurando quella sede, e intanto facciamo crescere la società. Quasi più un senso di colpa loro? Era assolutamente un senso di colpa loro, ma un'azienda non ti dirà mai, mi sento in colpa, perché l'ho mandata a casa della gente. Questo è anomalo, perché in una situazione di genere sarebbe stato più facile che la gente abbia pensato, quelli sono pecole nere che non lavorano, perché... L'hanno pensato, l'hanno strapensato, ma assolutamente il punto di partenza era quello lì. Cioè loro dicevano, noi portiamo avanti tutti, però se dobbiamo avanti, a un certo punto chiuderemo quello, nel senso se continua ad andare male, cerchiamo di reintegrarli, vorremmo riuscire ad essere un'azienda virtuosa, facciamo questo tentativo ora, se però anche questo non vale, perché noi cerchiamo di girare ai clienti, se anche per i clienti nuovi però non abbiamo risultato. Ma l'azienda di dove è? No, no, l'azienda è di Milano. Quindi magari c'era un po' di pregiudizio su... Ma figurati, c'era tutto, c'era tutto quello che potete immaginare e molto di più. Questa è la campana di... Aspetta, figurati quando io gli ho detto questi si sostituiscono a vicenda, anziché andare dal capo settore, questi cosa non mi hanno detto? Mi hanno detto, per te è una storia positiva? Gli ho detto, ma certo. Però mi hanno detto, certo, come disegnarsi la cintura di sicurezza sulla maglietta anziché allacciarsela, cioè... No, per cui in realtà, il mio punto di vista è quello dell'azienda non erano esattamente coincidenti. Ma lei ha capito che lei... Però, esatto, però poi io ho avuto del tempo per lavorare con l'azienda che invece era l'altra parte del contendere e che doveva capire che il conflitto era un conflitto che doveva sanare lei e non dipendeva da una negligenza. Ma loro dovevano mettere in grado gli altri di avere il lavoro da fare. Ed era sbagliato accentrare tanti clienti su delle sedi e un cliente uno solo dall'altra parte, perché da lì non esci. E' vero che convincete il cliente di Varese ad andare dalla sede di Caserta, anche per i tempi di produzione e di consegna, cioè... Però gli ho detto, ma sì, adesso sono tutti veloci a consumare acciare, si estelliscono, non è una roba che te la porta anche al carretto da Caserta, cioè non è... Perché parlando di cavi d'acciaio che non vi sto spiegando, io non avevo mai visto un cavo da vicino. sono enormi. Quei figli che vediamo in alto, sono enormi. trasporto non è facile. Ma ancora tu hai sentito quindi però solo una campagna, perché non hai sentito... Io li ho sentiti... Ah no, non ho sentito i cast integrati perché in quel momento erano... Sapevo, ho sentito i sindacalisti che li rappresentavano, cioè loro sono arrabbiati ovviamente, però convinti che rientreranno. Di nuovo fanno parte di quella... Di quelli che... Ci lavorava anche mio padre, con i momenti difficili ci sono sempre, prima o poi rientriamo, sappiamo che poi erano in cassa integrazione da poco e sai che c'è un anno, no? Di solito, e loro erano stati rassicurati, molto rassicurati da questa cosa e anche dal sapere che la società in realtà stava crescendo, per cui non avevano tanta paura. E come si chiama la gente che... Non si può, non si può. Però dico le storie belle, ti le ha raccontate chi ha avuto la fortuna di rimanere il posto. Ma non erano sicuri di rimanere, eh? Nessuno. Se non entrava un altro cliente... Chiudevano quello stabilimento, perché il tentativo era l'ultimo tentativo di farlo funzionare, però se Nel continuava a licenziare, se si decideva di non produrre più, se si decideva di acquisire... Che bastavano gli altri stabilimenti per il far bisogno, ovviamente quello sarebbe stato il primo a chiudere e altre teste sarebbero cadute e qualcuno l'avrebbero spostato a lavorare al nord. Perché poi c'era anche questo, che l'altro rischio che correvano, quelli che rimanevano, era di venire spostati. Infatti, l'altra cosa surreale che stava succedendo è che dovevano fare un corso di inglese obbligatorio. Perché magari lavoriamo per clienti stranieri. E loro dicevano, l'inglese sì, ma i nostri clienti sono cinesi, noi dobbiamo imparare il cinese. E quindi erano bellissimi. Allora io gli ho spiegato, signori, mettete lì un corso di cinese. Cioè, a un certo punto... Difficile per noi era difficile comunque. Però, io spiego il pilaser al cinesi, vado in Cina e glielo spiego. Cioè si era fatto tutto il momento. Sì, era pronto. Ma c'è anche la barrigia, secondo me, è un po' mezza preparata. No, belli. Allora, forza. Oggi, io vi propongo due possibilità di temi di... Anzi, oppure prima facciamo un giro perché mi diciate di che cosa avreste, voglia voi. Poi io vi propongo due possibili lavori, se no. Io mi affido. Ci affidiamo dei gari? Delego. C'è qualcuno che ha voglia di qualcosa in particolare? Io mi parlo del pasto, non mi ha preso. E questi studenti si sono riconosciati. Mi ha preso di cui, io prima vi davano tre anni. Aspetta che adesso c'è la strada. Allora, visto che prima si dava più tempo alle persone di poter facilitare un gruppo e adesso i tempi si sono ristretti, tu ci sei dare degli suggerimenti, degli elementi che noi possiamo utilizzare per cercare di utilizzare i tempi stretti, non cercare di abusare di noi stessi nel nostro lavoro e di comunque creare un processo sano e che sia comparabile ai tempi in cui c'era più tempo per lavorare con le persone. Sì. Allora, diciamo che in Italia questa cosa è veramente un po' difficile da gestire perché noi abbiamo dei tempi burocratici in Italia che sono eterni e sono gli stessi di sempre. Cioè, sono lunghissimi e da sempre lo sono stati. Quello che succede veramente è che ci sono due esigenze abbastanza diverse. Da un lato c'è l'esigenza dell'amministrazione che arriva a stanziare i soldi all'ultimo momento possibile, alla scadenza dei progetti e a coinvolgere quindi il consulente, il facilitatore, quello che è, alla scadenza dei progetti ed ecco perché ti restano due mesi, tre mesi, se proprio ti va di lusso sei mesi, ma e se ti va di lusso è perché è un processo complicatissimo per cui in realtà i tempi sono veramente stretti. Ci sono due modi e dall'altra parte c'è l'esigenza invece del facilitatore di avere dei tempi rilassati e di guadagnare qualcosa perché adesso siamo tutti votati alla causa però uno tendenzialmente lo fa per lavoro se no se lo fai nel tuo tempo libero come volontariato è tutta un'altra storia però diciamo che questo è un lavoro e che un lavoro va riconosciuto ma soprattutto quello che a me preme sempre di più è non far perdere tempo alla gente che viene coinvolta per cui non è che è vero che prima avevamo tempi lunghi ma noi chiedevamo uno sforzo alle persone per tre anni di venire una volta a settimana all'incontro una volta ogni 15 giorni fare l'evento una volta che anche questi dopo un po' dicevano non mica ci pagate infatti in Olanda pagano i partecipanti c'è un gettone di presenza oppure ti offrono da mangiare ma non è corretto perché ci vanno tutti disoccupati e i vecchietti e basta ovviamente però appunto siccome il problema sta là io mi sono fatta un'idea poi non lo so se è quella corretta non ho molto da insegnare su questo però io penso che o si segue la via di fare noi delle proposte agli enti come dire conoscere un po' dei territori e sapere quali sono le cose che la gente vorrebbe i bisogni che ci sono e quindi come dire dedicare delle energie tue alla progettazione e andare dal lente già con una proposta convincente strutturata senza aspettare di intercettare il bando di vincere il bando perché è una possibilità però ovviamente quella ai tempi che ci siamo detti prima se invece tu fai delle proposte anche piccole però fai delle proposte mirate è più facile che l'ente debba stare i tempi che tu proponi cioè se accetta quella proposta l'accetta con i tempi che tu gli dai e con le risorse che tu gli chiedi se no si tratta e si capisce come ridimensionare la proposta eccetera eccetera e se ha senso ridimensionarlo se per te non è più interessante allora seguire quel lavoro quindi questa è una possibilità dove c'è un tuo investimento all'inizio un tuo rischio che ti assumi e però poi se va hai i tempi che ti servono e in più tu prima hai già fatto un pezzo del lavoro in realtà perché per arrivare a costruire la proposta hai già fatto un po' di analisi del territorio un po' di interviste un po' di racconti delle persone le hai raccolte un po' hai capito quali sono i punti di crisi e quindi quando poi inizi sei già preparato e questa è anche una risorsa per far passare la tua proposta perché in realtà anche chi la riceve dice vabbè però hanno fatto un lavoro quindi se loro mi propongono questa cosa c'è una conoscenza c'è una competenza per cui da un lato quello può funzionare dall'altro lato se invece a chiamarti è in emergenza lente quello che mi viene da dire è mettere delle condizioni dei paletti come dire senza i quali ti rifiuti di accettare il lavoro è vero che rischi che chiamino il tuo competitor però che lo chiamino pure perché ci sono dei lavori in cui tu ti secondo me ti rovini e basta perché lo fai male non hai tempi non ti interessa non ti piace non ti appassioni non guadagni niente e in più fa una figuraccia il tuo nome però su quel lavoro per cui per cui quelli che ti chiamano dopo ovviamente sanno questa cosa in quel caso secondo me i paletti sono avere almeno un mese almeno un mese per conoscere la situazione che poi tu lo usi al meglio facendo le cose come le devi fare e poi almeno tre mesi per arrivare alle soluzioni se questi tempi non ci sono piuttosto riduciamo a due mesi l'altro pezzo ma insomma almeno un mese iniziale soltanto di conoscenza di analisi per entrare nel tema per entrare in quel territorio in quel contesto secondo me è necessario proprio il minimo quindi niente lavori sotto i tre mesi non è pensabile cioè in un mese ti ammazzi lo fai ma ti ammazzi e anche alle persone chiedi di esserci tutti i giorni come fai a chiedere a una persona di metterti a disposizione tutte le serate della sua vita per un mese non è plausibile niente vale più della propria famiglia cioè uno quando torna dal lavoro vuole stare con la famiglia non è che può tutte le sere essere fuori per che cosa per far contento il sindaco quindi c'è questo per cui la mia attenzione è per la persona e quindi devo trovare un modo per coinvolgerla nelle giuste misure quindi piuttosto piuttosto se non c'è il modo di coinvolgere le persone nelle giuste misure con i giusti tempi forse è meglio lasciar perdere forse non è maturo il momento per fare quella cosa lì e l'altra cosa è avere la certezza del risultato cioè ti devono firmare col sangue che poi quella cosa la realizzano e la realizzano entro tot tempo perché se è soltanto un pur parler un modo per arrivare alle elezioni con avendo fatto partecipazione che in questo momento va tanto di moda non funziona io sono riduce da questo progetto all'isola che vi verrà raccontato meglio da Giulio Ernesti quando farà il suo laboratorio qua con voi in cui secondo me è stata la prima è stato l'ultimo processo così che ho seguito e uno di quelli che mi ha fatto dire basta l'isola è un quartiere di Milano un quartiere molto particolare c'era anche Marianella eravamo tantissimi ma eravamo più noi dei cittadini ma perché era bello il progetto e perché siamo tutti molto affezionati all'isola l'isola è un quartiere di Milano che è stato un quartiere artigiano per tantissimo tempo ed è proprio un'isola era adesso non più fino a metà dell'anno scorso era proprio un'isola perché c'entravi soltanto da questo cavalcavia bussa o da un'altra parte però era più o meno un po' chiuso in sé stesso questo quartiere vicino alla stazione di Garibaldi ed era un quartiere in cui c'era questa famosa stecca degli artigiani che era così da tanto tempo a un certo punto la stecca era un edificio in cui dentro c'erano tutte le botteghe degli artigiani che per Milano è una specie di come dire un luogo che l'unico posto in cui il tempo si era fermato come dire un posto sì sì in un momento in cui tutto attorno freme quello era veramente un posto bellissimo e le case erano case ancora di ringiera ancora case in cui ci stavano famiglie che da sempre abitavano lì ancora un po' si parlava di rete i ristorantini erano ristorantini ancora un po' le trattorie milanesi l'unico posto a Milano perché tutto il resto nel frattempo era stato fagocitato dalla Milano che conoscete tutti insomma la stecchetta la stecca e la stecchetta cosa è successo? a un certo punto hanno deciso che questo quartiere andava insomma lì c'erano dei terreni che sono stati acquistati sono stati acquistati da un grande speculatore li ha rivenduti alle banche e hanno deciso di costruirci i grattacieli e quindi quel posto doveva diventare un pezzo della Milano del terziario anzi un polo importantissimo della Milano del terziario hanno costruito questi benedetti hanno iniziato a costruire questi benedetti grattacieli e hanno deciso adesso sono finiti fai conto sarà allora io credo che le prime i primi tentativi di distruggere questo posto risalgono a una ventina d'anni fa diciamo il processo vero e proprio per cui da lì non c'è più stata salvezza sono una decina d'anni adesso è tutto finito per cui ormai è andata e ci sono tanti grattacieli non tutti ma tanti cosa è successo che però il quartiere andava risanato non vuoi tenere le case di ringhiera di fianco al grattacielo e quindi anche perché costruendo il grattacielo di vetro il sole rifletteva andava a bruciare le persone di legno le tapparelle di legno e quindi ci sono stati dei problemi incendi e in più perché lì ci vanno a lavorare delle persone arrivano o vengono acquistate degli appartamenti perché alcuni erano per il terziario altri erano grattacieli per famiglie ricche e quindi non è che puoi avere come vicino di casa quello che sta nella casetta bisogna un pochino come lo gare quindi hanno iniziato ad alzare gli affitti a vendere gli appartamenti a prezzi altissimi a vendere e affittare gli spazi dei negozi a prezzi altissimi ma altissimi altissimi vuol dire che vi sto dicendo che non so un appartamento di 90 metri quadri costa 14.000 euro al metro quadro come in centro di più in questo momento di più in centro credo siamo sugli 8-9.000 però il centro non c'è più da vendere e quindi no anche posti probabilmente belli dipende dal gusto però un modo per cambiare l'aspetto sociale di quel quartiere ovviamente qual è stata la prima cosa che è stata distrutta? la stecca la stecca e c'è stato un movimento degli artigiani che ha lottato per davvero secondo me 15 anni buoni per salvare la stecca dopo di che hanno abbattuto la stecca tanto che si compra ti comprano il terreno e fanno quello che vogliono ma scusami però per quelli che avevano casa là è stato positivo nel senso che hanno venduto poi le loro case a prezzi altissimi? sì chi ha potuto vendere chi ha potuto vendere sì chi ce l'aveva di proprietà chi ce l'aveva di proprietà però sai quelle sono carri vecchie in cui tanti erano in affitto però va bene no no chi ha potuto vendere ha guadagnato un sacco di soldi e anche chi è rimasto lì e si è visto in qualche modo rimettere a posto il quartiere probabilmente ci sta bene adesso non tutti gli anziani sono un po' più nostalgici meno magari le famiglie un pochino più rampante sono vicine a Corso Como adesso gli hanno aperto la strada diretta non è più un'isola siamo proprio nella Milano come dire in questo momento quella sta diventando un po' la Milano bene e in più hanno aperto appunto Unicredit e per tanti altri le loro sedie in questi grattaceroni vabbè comunque al di là del giudizio sull'intervento urbanistico che potrebbe richiedere giorni e giorni ma lo lascio a Giugno Ernesti quello che a me ha lasciato abbastanza sconvolto è stato che il Comune di Milano tutte queste decisioni sono state prese dalla giunta precedente a quella attuale anzi dalle numerose giunte precedenti perché ovviamente stiamo parlando di vent'anni è arrivato Pisa Pia bisognava fare qualcosa di sinistra anche all'isola insomma bisognava che dovevano in qualche modo mettere provare almeno un progetto su questa cosa e quindi hanno deciso di avviare questo percorso partecipato per chiedere agli abitanti dell'isola che cosa potesse servire hanno deciso di non farlo così che andavamo troppo per le lunghe che i tempi non c'erano che bla bla hanno deciso che agli abitanti dell'isola serviva una casa di quartiere un centro civico e hanno deciso che il cavalcavia bussa che è il cavalcavia che entra che sta sopra alla ferrovia di Garibaldi e che entra nel quartiere andava migliorato perché era bruttarello hanno fatto finta che gli era l'estero chiesto agli abitanti non lo so come sia andato il prima però secondo me loro hanno individuato queste due possibilità per far lavorare la gente su qualcosa di concreto diciamo senza stare a fare tutta la parte più ovviamente Marianella si è fatta 700.000 interviste quindi no poi in realtà abbiamo capito che effettivamente non essendoci più la stecca che era un grande luogo di ritrovo che era un grande luogo di aggregazione serviva qualcosa in sostituzione che fosse un po' la nuova stecca però gli artigiani ormai erano inviperite non stavano più lì per cui comunque stavamo parlando di qualcosa che sarebbe stato notevolmente diverso in più ormai avevano chiamato gli olandesi a fare il parco di quartiere su un progetto olandese non chiedendo agli abitanti cioè una roba già decisa c'era un altro assessorato che stava facendo la casa della memoria delle resistenze proprio lì che è un cubo nero un cubo nero con fuori delle specie di immagini di gente morta mi stanno facendo la mia io ho visto solo il progetto ho detto io mettetelo nascosto perché non credo non so se l'hanno già finito dentro questo parco che hanno messo dove prima c'era la stecca quindi un enorme cubo nero enorme no è piccoletto perché per mai il museo della resistenza non è che adesso abbiamo tutte queste robe sono carte sono libri è una specie di biblioteca tematica ecco ci sono dei video delle cose per non è che sì Milano ha avuto una grande storia su questa cosa della resistenza però dedicare il mausoleo forse era non è anche bellissimo ma l'edificio è orrendo e se sarà così come da progetto sarà orrendo va bene aspetta 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 ah no iniziamo il percorso no devo farla breve perché io sto parlando tanto non lo dovete disegnare ok e la faccio più breve niente comunque insomma decidono questa cosa ora il cavalcavia ve lo racconta Giulio Ernesti perché abbiamo fatto la charrette per decidere che usi fare del cavalcavia è un progetto c'è sempre la charrette è un progetto è un progetto l'ultimo sì però Giulio è proprio quello che l'ha fatta per cui ve la racconterà un po' più dall'interno soprattutto Giulio ha seguito anche il percorso poi di scelta dei progetti e adesso c'è un progetto per il cavalcavia che sta partendo che verrà lì discusso credo con i cittadini per i dettagli ma che insomma sta partendo ed è frutto della charrette quindi effettivamente è un buon progetto penso sì io l'ho visto un po' velocemente ma penso di sì poi Giulio vi dirà le sue invece io vi rubo un attimo ma penso che poi l'abbia già fatto Marianella quindi vi rubo solo un attimo sulla questione invece del centro civico il centro civico ha avuto secondo me un forte conflitto inizia ha scatenato un forte conflitto che non abbiamo risolto secondo me o meglio che è stato risolto in un modo inusitato pensando che c'era Marianella però loro ce l'hanno dato all'inizio cinque location possibili e questa cosa ha viziato tutto il progetto nel senso che loro ci hanno detto guardate può essere qua, qua, qua o qua o qua anzi quattro perché in una ci mettiamo il coso della memoria di Della Resistenza quindi c'è una tolta una che era la più bella di tutte ovviamente che era dove c'era la vecchia stecca noi dicevamo va bene per continuità facciamo il centro civico dove c'era la vecchia stecca in un parco rimesso a posto in un posto carino e la gente magari non ci si riaffeziona come l'affezionata alla stecca però magari un po' ci crede tolto subito quello cioè neanche a dirlo noi rimanevano qua la gente è emotiva ai nostri amministratori non viene frega loro calcolano ah dunque questo è occupato perché ci serve un tot metri quadri il progetto è quasi finito lo si fa prima ci sono già i soldi lo finanziano le associazioni che seguono la resistenza e quindi quello si fa capito quello si fa di sicuro quindi noi avevamo quattro possibili location e l'incertezza della realizzazione in quel momento in quel momento i soldi stanziati erano pochissimi quindi o facevamo una roba super in economia oppure non si faceva andiamo a vedere cosa facciamo noi abbiamo sbagliato secondo me perché e abbiamo fomentato il conflitto perché siamo partiti dalle localizzazioni un processo di questo tipo parte da c'è da fare un centro civico cosa ci vogliamo mettere nel centro civico quali attività ci saranno quali sono i desideri che gli abitanti hanno e che possono trovare risposta all'interno di una struttura di questo tipo quali enti chi vorrà gestire queste attività e quindi effettivamente quali sono le attività vere che si svolgeranno lì dentro rispetto ai nostri sogni e desideri perché io posso volerci la piscina ma se nessuno mi gestisce la piscina non si fa io ci posso aprire il mercato ma se invece deve essere la casa delle associazioni il mercato non ci sta insomma dipende cosa vogliamo fare allora noi abbiamo chiamato gli esperti di Torino delle case di quartiere a raccontarci le loro esperienze con le case di quartiere questo credo ve l'abbia raccontato Marianella che in effetti ci hanno fatto venire tantissime idee ma abbiamo messo da parte le idee per capire dove lo mettevamo prima perché l'altra corrente di pensiero era sì ma il posto ha molto senso rispetto a cosa ci metti dentro perché se avvicino alle scuole farai più attività per i bambini ma se è lontano dalle scuole le mamme non ce li portano i bambini l'isola è grande se avvicino a dove stanno gli anziani di solito a dove si ritrovavano di solito dove c'era la vecchia stecca è probabile che gli anziani ci vengano ma se è decentrato rispetto ai percorsi che un anziano può fare a piedi e devi prenderti due fermate di autobus probabilmente nessuno ci va dai miei anziani in quel posto per capirci quindi in realtà noi abbiamo sbagliato ma motivati da questa questione e abbiamo valutato i quattro posti nel frattempo succede che uno dei quattro posti ci viene tolto dall'amministrazione perché bisognerebbe fare la bonifica ed era un altro posto bellissimo sotto il cavalcavia perché a quel punto noi abbiamo detto scusate eh perché dobbiamo fare due percorsi su due cose diverse mettiamo il centro civico sul cavalcavia il cavalcavia non regge il peso di una struttura e neanche di un albero per cui abbiamo fatto abbiamo pensato c'è un terreno setto dove adesso c'è un'associazione che si chiama Pepe Verde abbiamo discusso per mesi con l'associazione Pepe Verde però abbiamo pensato potrebbe essere una cosa fatta con Pepe Verde capita super attenta alle questioni naturali eccetera eccetera e di sostenibilità ambientale e metterla lì che è vicino al cavalcavia così il cavalcavia ha un accesso diretto piacevole che sarà dedicato ai pedoni alle biciclette eccetera e sarà cioè ci sembrava che tutto tornasse no allora lì serviva la bonifica e quindi no e a quel punto rimanevano il mercato cioè sopra non che si posiva il mercato si alzava di un piano il mercato e lì sopra si poteva fare e qua c'è stato detto no perché voleva dire chiudere il mercato per dei mesi metterlo nelle strade per l'assessorato che si occupa dei mercati che non è lo stesso assessorato che si occupava dell'altra cosa era impensabile non si parlano da anni figuriamoci se questi due si mettono a trovare una soluzione comune poi ci vogliono troppi soldi per alzarsi di un piano non si fa che era perfetto perché era nel centro dell'isola sì e poi perché questo ti permetteva non so di fare una cucina di prendere i prodotti da sotto di fare le feste di quartiere utilizzando i prodotti che venivano venuti al mercato ma ce l'hanno venuti già tutti un sacco di film niente a noi niente a quel punto rimanevano un posto terrificante noi intanto abbiamo perso dei mesi perché ogni volta noi ci affezionavamo una location facevamo tutto il progetto e questo veniva cassato con i cittadini i cittadini passavano le loro serate i cittadini ci guardavano e ridevano come per dire ci credete solo voi che si farà la casa di quartiere noi ormai noi veniamo giusto perché ci fate tenerezza che venite qua tutte le sere e mi dici guarda vogliamo il centro cinico e lo vogliamo lì mettici quello che ti pare a te ok ed era più realistico e anche un pochino più logico rimanevano la sede dell'anagrafe che non vi riesco a dire quanto triste sia è un edificio proprio brutto ma brutto 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 occupata dall'anagrafe che rimaneva occupata e in teoria ci avevano detto guardate sopra ci sono tutti i magazzini delle pubblicità dei cartelloni pubblicitari del comune di Miata togliamo quelli e vediamo tutto quello spazio ma magari dopo un mese viene fuori che quelli della pubblicità non hanno nessuna intenzione di liberare il loro spazio quindi ci rimaneva un angolino dentro l'ufficio dell'anagrafe che triste è orribile e poi se no questo spazio che a un certo punto ci siamo fatti piacere ci siamo convinti che era il posto più bello del mondo ma abbiamo convinto agli abitanti che era perfetto e verrà fatto lì dove era il magro? no è uno spazio verde un po' più piccolo vicino insomma di fronte alla vecchia stecchetta e e vabbè insomma questo è quanto però questo per dire come nel frattempo la gente era arrabbiatissima arrivavano a insultare i tizi dell'ufficio di zona che si avevano seguito con tanta pazienza tutto il progetto e i tecnici del comune ogni volta che li vedevano se questi arrivavano loro se ne andavano i cittadini se ne andavano per riuscire a far lavorare i cittadini abbiamo dovuto chiedere ai tecnici di non venire più perché ogni volta che venivano loro distruggevano quello che stavano facendo ah ma no ma lì non si può fare ah ma l'abbiamo deciso l'altro giorno lì non si può capito? era un'angoscia continua e quindi iniziavano ma proprio a insultarsi a vicenda quindi abbiamo dovuto iniziare a fare un percorso col comune e separatamente un percorso con gli abitanti fare gli incontri bilaterali come dicevo ieri e poi pian piano cercare di riportare il fatto che l'interesse comune era avere questo progetto e che bisognava trovare una soluzione e fare un progetto talmente bello che ringvigorisse gli animi cioè che la gente tornasse a credere che quella giunta voleva veramente fare partecipazione ma quando io andavo dalla giunta la giunta mi diceva tutte le mattine ci sono qua gli abitanti dell'isola noi non ne possiamo più se sapevamo che la partecipazione era questa cosa qua noi non l'avremmo mai fatta e io che gli dicevo per caso che lo slogan di Pisapia è che libertà è partecipazione quindi facciamo che ora voi ve la fate andare bene la partecipazione e la fate di fatto loro poveretti si sono impegnati fino in fondo davvero e quindi nonostante nel frattempo c'è stato un rimpasto di giunta c'è stato un po' un casino e l'assessore che ci seguiva in realtà è stata spostata alla casa per cui ha delle nuove competenze insomma aveva degli altri problemi era la Benelli e a quel punto quello che è stato fatto è stato fare un concorso coinvolgendo tutti gli architetti che volevano partecipare perché sopra dovete sapere che se l'importo supera una certa cifra si va a gara per forza i cittadini possono dire cosa vogliono però il progetto lo fa chi vince la gara noi siamo riusciti a convincere gli assessori a mettere nel bando di gara la clausola che nella giuria ci sarebbero stati alcuni membri di questo gruppo di cittadini che aveva lavorato e anche che tutto il percorso poi progettuale la realizzazione progettuale sarebbe stata seguita da alcuni rappresentanti i meno facinorosi del gruppo non quelli che andavano la mattina alle 8 dall'assessore adesso hanno finito le gare hanno trovato i progetti vincitori di tutte e due le cose di questo vi parlerà Giulio sicuramente e comunque si parte adesso inizierà un percorso su cosa metterci dentro questa struttura perché noi abbiamo perso i nostri tre mesi a decidere dove cacchio farla quindi e a ricomporre un po' il conflitto tra le parti per cui ora effettivamente siamo arrivati a questo punto e insomma perché il punto è questo hanno deciso io ho visto male il progetto per cui non sono affidabile spero che sia un progetto di massima per passare il concorso ma che poi sia più flessibile perché se poi gli usi interni sono tutti diversi da quegli spazi a prescindere dall'uso il progetto era una gara la gara è sulla bellezza architettura no 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 le gare in architettura si dividono in due sono gare sul progetto e gare estetico no no gare sul progetto nel senso progetto strutturale estetico e gare invece che comprendono anche la possibilità delle destinazioni d'uso in questo caso era una gara solo sulla prima parte perché appunto volevamo lasciare che fossero i cittadini a scegliere il resto ci mancava pure che l'architetto ci dicesse cosa metterci dentro cioè quindi in termini di costi di risfrutturazione non potrebbe venire a essere no nasce da zero non abbiamo scelto l'anagrafe è una struttura che nasce da zero ma per fortuna per fortuna sì ma per fortuna per chi lo faciliterà che non sarò io per cui ora potete disegnare in riferimento a quello che dicevi ora in realtà anche agganciandosi un po' al discorso che facevi ieri ti è capitato di trovarti in una situazione in cui stavi facilitando un processo in cui alla fine da almeno una delle due parti se non da entrambe è stato messo fortemente in discussione il tuo ruolo di facilitatore al punto di essere magari anche osteggiata da qualcuna delle contropane è successo in Emilia Romagna questo è stato veramente un processo assurdo veramente faticoso dunque c'era questo paese dell'Emilia Romagna in cui a un certo punto c'era un viale con mi sembra 82 tigli questi tigli avevano il tiglio è un albero che ha delle radici che si estendono non tanto in profondità quanto in superficie in larghezza in più è un albero che è stagionalmente sporca perché fa cadere la polverina gialla non so se è il polline adesso non sono esperta aiutami il tiglio sono fiori cos'è il polline è un seno ecco insomma questa polverina giallina del frutto che allora essendo peggio essendo un paese con tante casettine piccole cioè non è una città quindi sono case di proprietà di singoli proprietari che hanno il giardino e hanno questa cosa è successo che negli anni questi tigli sono bellissimi insomma i suoi sono enormi hanno con le radici rotto le recinzioni alzato le pavimentazioni rotto le recinzioni e a volte sono entrate nelle cantine o nell'acquedotto facendo un disastro allora gli abitanti hanno fatto causa al comune perché devo pagarmelo io il tiglio sul tuo suolo mi ha fatto un danno tu mi paghi un danno e in più mi toglie il tiglio tutte e due toglie il tiglio toglie il tiglio molte persone non la pensavano esattamente come lei cioè non se ne parla proprio il tiglio sta lì il tiglio è un albero meraviglioso fa ombra aiuta pulisce l'aria e così poi non vorreste togliere 82 tigli cioè togliere tutti i tigli della strada era la proposta il comune stava accettando di togliere tutti i tigli della strada quando un gruppo di cittadini tra cui alcuni abitanti di quella via sono insorti dicendo i tigli non si toccano si incatenavano i tigli hanno fatto dei lavori con i bambini hanno fatto dei lavori con i bambini in modo da far sì che le scuole adottassero i tigli e quindi il tiglio non poteva togliersi perché era adottato da un bambino per cui è iniziato uno scontro il sindaco ha alzato le mani cioè si ha arreso io non lo so cosa faccio aveva era in mezzo tra quelli che un lato della strada che però aveva avuto meno danni e che alcuni appunto dicono chi se ne frega della recensione sollevata tanto non è che qua non entra nessuno cioè non succede niente il danno alla cantina era più grave però il danno alla recensione o al marciapiede era una cosa a cui si poteva sopperire eccetera e questi ci chiamano benissimo ho fatto un bel percorso partecipato e ho trovato una soluzione per questa via io ammetto e ma il tiglio se stava lì continuava a crescere la radice sì ma questo problema c'era questo problema c'era però la soluzione non è mai radicale allora ovviamente non si poteva dare ragione a uno dare ragione all'altro non eravamo in quella posizione non era possibile perché tutti e due avevano ragione e tutti e due esageravano un pochino sulle loro posizioni e abbiamo fatto un vero percorso di riconciliazione del conflitto e in più ci abbiamo messo anche un pezzo di planning for real per capire come si poteva ripensare quella via in modo da salvare tutti gli possibili ok abbiamo chiamato degli esperti da Bologna che facessero le analisi tiglio per tiglio per capire se ce n'era qualcuno malato se ce n'era qualcuno che effettivamente andava tolto ciao e per capire quali erano quelle che avevano le radici che davvero e cosa sarebbe successo togliendo delle radici perché noi pensavamo se si tolgono soltanto alcune radici che sono quelle che stanno effettivamente però in Emilia Romagna nevica cresce male cresce male ma c'è il rischio che col peso della neve l'albero cadrà da una parte o dall'altra no no nevica di brutto in questi anni poi tra un po' nevica anche qua guarda in questi anni il peso degli alberi è succedendo insomma se gli alberi poi non li lasci l'albero mette le radici come vuole perché il problema qual era il problema era che l'albero cerca l'acqua le radici crescono perché l'albero cerca l'acqua non ci siamo fatti una cultura sulle radici degli alberi cerca l'acqua e invece loro avevano cementificato la strada cioè l'albero veniva lasciato giusto lo spazio del tronco non so se li avete mai visti qua sicuramente siete più bravi però lì succedeva che nemmeno li mettevano i sassini attorno proprio facevano il buco nel cemento e usciva l'albero tutto il resto era stato cementificato quindi l'albero non poteva quando tu metti il cemento l'asfalto l'asfalto è sopra ma sotto tu hai messo tutti gli strati che servono a sostenere il cemento l'hai pensata per le macchine non l'hai pensata per l'albero ovviamente di conseguenza il drenaggio dell'acqua viene molto in profondità ma il tiglio non riesce ad andare è una pianta che non sa che si può andare in profondità andare a cercarla nell'acquedotto o nella cantina della casa la prima la prima fonti d'acqua è proprio possibile in più 82 tigli uno attaccato all'altro perché stiamo parlando di una via di un paesino cioè come se in questa via mettessimo 50 alberi sono proprio attaccati quindi anche loro crescendo hanno fatto fatica per cui se uno incontra le radici dell'altro sposta un po' la sua ma c'era prima la casa prima le case e prima i figli c'erano nello stesso periodo hanno fatto quella via e hanno creato le case e piantumato ma hanno anche degli alberi nei giardini questi per cui non è che tu c'hai la colpa allora abbiamo fatto tutto un percorso per cercare di capire capito che la posizione era questa capito che effettivamente del vero c'era e che queste povere piante insomma andavano salvate almeno in parte non puoi toglierle tutte anche perché c'era qualcuno che ti diceva sì però io non voglio toglierli tutti perché poi anche se mi danno fastidio io voglio togliere quello davanti a casa mia perché l'altro mi fa ombra e io c'ho l'orso di là allora abbiamo fatto un percorso per capire secondo ciascuno quali andavano tolti davvero c'era quello che ti diceva radiamo al suolo ovviamente anche quelli dei cortili li togliamo tutto c'erano quelli che ti dicevano solo quello davanti a casa mia c'erano quello che ti dicevano solo quello davanti a casa sua è così abbiamo capito che ce ne erano tre malati ma tre su 82 va bene quelli venivano tolti abbiamo spiegato che togliere 82 alberi è un costo della madonna perché non è che proprio sia in dolore e abbiamo spiegato e abbiamo cercato di capire quali erano le soluzioni che si potevano attivare allora qualche albero è stato tolto i due che avevano distrutto le cantine sono stati tolti e i tre malati cinque mi pare in tutto gli altri sono stati tenuti con delle soluzioni creative nel senso che abbiamo fatto rifare l'asfaltatura della strada creando delle aiuole di almeno due metri per due attorno agli alberi dove era possibile anche unendone più di due se erano molto vicini tra di loro in modo che avessero la terra e l'acqua perché e la possibilità di respirare perché vengono in superficie le radici se devono respirare ma la terra permette la respirazione quindi si è pensato a come rifare questo mettere anche una pista ciclabile fatta con un materiale che fosse più leggero dell'asfalto e che permettesse la traspirazione e lasciare una carreggiata sola anziché due carreggiate per le macchine in quella strada in modo che l'asfalto era veramente lontano dalle piante a quel punto ma neanche tanti sia una via non stai rifagendo la città costava meno che togliere tutti gli alberi e meno di quello che dovevano pagare comunque di che comunque il comune ha dovuto pagare di risarcimento d'anni alle cantine e non le avevano fatti quelli erano fatti ma evitare di farne degli altri ovviamente era ma gli alberi tolti sono stati trapiantati gli alberi tolti volevamo trapiantarli in realtà quando tu tagli siccome per togliere un albero secolare o un albero così alto tu devi tagliarli le radici non c'è più possibilità lui muore e quindi la cosa che è stata fatta è stata però piantare insomma in maniera un po' simbolica per i bambini che erano stati che ci sono quei cinque di quegli alberi dici rimanevano malissimo gli abbiamo fatto gli hanno piantato non so quindici alberi in un altro in una parte nuova nella città però piantate in maniera un pochino più sensata in uno spazio in cui l'albero potesse crescere davvero insomma quindi e non tigli perché il tiglio era diventato un po' perché poi c'era la vecchietta che diceva sì però io mi ritrovo a dover pulire il tiglio si appiccica quella passina lì mi fa 11 no la pausa non la facciamo da poterlo dico però non mi ricordo come si chiama però è da poterlo dico no 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 è vicino a Reggio Emilia tra Modena e Reggio Emilia però non mi viene in mente il nome da beh insomma io in quel caso sono stata massacrata da tutte le parti cioè tutti e due i gruppi dicevano che io ero lì a rompere le scatole che i tuoi tigli andavano tolti punto che l'altro l'altro dicevano i tigli si tengono punto ce la gestiamo tra di noi ci mancate solo voi che venite a dirci che vedo dove venire rifare la strada chi se ne frega della strada il problema è il tiglio e invece siccome noi cercavamo di spostare lo sguardo su altre questioni per loro era un modo per sbiarci era un modo per intrometterci in una cosa che loro sentivano come una battaglia tra moglie e marito cioè però poi alla fine si è fatto ma noi non siamo mai più stati a chiamare di lavorare per quell'amministrazione quindi non so se è stato un percorso virtuoso allora dicevo voi non avete suggerimenti quindi decido io non avete voglia particolare dunque io direi che avrei voglia di vedere di fare questo lavoro vorrei vedere come voi pensate di utilizzare tutte le cose che ci siamo detti oggi nel vostro lavoro o nella vostra vita personale quindi vi chiederei di usare questi foglioni grandi oggi per provare a calare questa cosa in esperienze che o state portando avanti o che vi piacerebbe portare avanti o per ripensare un pezzo di come voi vi muovete insomma provare a vedere come cosa viene cosa viene fuori l'altra alternativa era proporvi un altro racconto di un conflitto e farvi rimettere tutto ridisegnare tutto quello che avete capito su quel conflitto però mi piace di più la prima visto che abbiamo un'oretta mi piace di più la prima tanto conflitti ne abbiamo parlato direi a sufficienza abbiamo finito di conflitti tutto quello che ci siamo detti in questi giorni come lo fai tuo come lo fai tuo si adesso io vi do un si c'è proprio un po' raccontarmi come pensi di usarlo da qui in avanti non solo per quella lezione in generale per te ci sarà un angolo in cui ci sarà quella lezione ma in generale per te come pensi di usarle queste cose come pensi di svilupparle se pensi di usarle no no tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni ok allora io spegnerei il dopo magari li salutiamo ci siamo tre quarti d'ora ma un po' meno 40 minuti e poi devo chiudere perché devo andare via cercare di fare il check-in grazie grazie oh dio se voi ti tolgo la dopo dopo sono 85 minuti con il gelato non mi faccio Grazie. 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 cioè se è vero o il contrario, se tu gli dà un cassivo quello è, e anche se lo gli dà un cassivo quello è e quindi di conseguenza provare a dire il gioco, a venire in cucina, ad aspettare che io vieni a fare le cose se mai non ti do da mangiare e vedi che sei insistente, perché io me lo chiedi 30 volte oppure quello è proprio cambiare dentro ma spegniamo la televisione però appunto di uscire e basta, se volete si, no l'altra volta mi c'è quella punta perché non devo mettere la mia firma, se ne ho se andiamo vivendo, però dovete fare la copertina, dovete fare la vaccina mi sanno ma dove puoi usare? non si stanno facendo delle cose che fanno è che è comunque difficile è facile io sono una mi sembra tanto ancora ma sì, ho stetto sicurezza, ma in realtà è molto timida è molto complessi su me stessa infatti per me è stata cosa dell'azienda che era sì e e nelle cose in cerco sempre per anni non volevo aprire io non ho provo in me di tantissimi anni perché non voleva spogliere e qui è una cosa che poi è che diceva che sei sicura di quello che stai facendo cioè un po' di due ma che non sono sicura di me in generale però sono sicura di quello che stai facendo su questo mi portata su quello che dicevo su quello che dico su quello che mi stai facendo e allora non è un piacere per dire che il prodotto di vista non è la verità ma c'è un po' che posso essere contro la vetta domani mattina da uno per perdere però questo è quello che posso dare io però ho tanti però mi dirò su quello che porti che sono io psicologica e a volte non arriva nel senso che se è un po' troppo esatto che stai facendo un po' cerebrale un po' cerebrale o proprio quasi di un po' psicodramma sì fanno lo psicodramma invece questa cosa che vuoi fare tu secondo me un po' più fresca non ci stai perché questo non so se lo facciano so che mi aveva raccontato Marianella che sa che lei è stata a Prato per questo conflitto dove ci sono i cinesi dove ci sono i cinesi ma dice che a Prato c'è un gruppo che lavora forse proprio a contattarmi noi l'abbiamo contattata infatti adesso poi provavo a confrontarmi non so esattamente loro lavorano proprio con i testi però tipo di Shakespeare cioè fanno lavorare sui testi di Shakespeare per risolvere i conflitti invece è più che di non lavorare su questioni reali anche per chi guarda secondo me è interessante cioè si rispecchi in quelle cose mentre magari nel testo di Shakespeare c'è un po' che riesce a metterli dentro l'università assolutamente però che se parti da quello lo metti dentro no è interessante no questo è davvero intimo infatti l'abbiato è diventato un vero tutto invece quello chi è? questo sono vai in realtà è estremamente analitico perché io ho assolutamente ragione su questa questione l'ombra dove va? sarà fonte a terza o questo è questa? una lampadina accesa una fonte di luce non proiettica è cercato il sole annaggia beh in quel momento era tutto scherzo sto scherzando va bene in realtà è un modo molto schermato cercherò un po' di sistemizzare i contesti di spendibilità delle competenze quindi sul lavoro il lavoro quindi declinato le varie attività che si possono fare adesso che mi sto dedicando un po' di più per esempio all'incubazione del business plan dell'impresa oppure tu conosci sicuramente il business model canvas ho visto qualcosa su internet però personalmente lui è una cosa il business model canvas nasce abbinando tentando di abbinare parole e chiavi disegno si è in effetti un'altra cosa che andrebbero approfonditi quindi oppure per esempio la scuola o ministri eccetera dal punto di vista associativo che il contesto mi coinvolge un po' di più dal punto di vista culturale quindi l'attività interna dei gruppi di lavoro che abbiamo con i ragazzi oppure le riunioni tra di noi di staff oppure le assemblee pubbliche più ampliate dal punto di vista personale diciamo le tre dimensioni principali uno rispetto ai nuclei che sono pubblici la famiglia gli amici i parenti uno dal punto di vista strettamente te lo dico per onestà gestire un conflitto in famiglia no non la perdesse in gestito è una fatica ad affrontarlo con chi ha un'illettura no no è sensatissimo assolutamente però ti dico è faticoso e poi siccome si discute del fatto che i conflitti possono riguardare l'apporto persona a persona ma anche personalmente quindi l'ambiente inteso dal punto di vista più alto io in questi giorni non sono stata ad approfondirvi tanto quelli lì perché richiedono un ragionamento sul fatto che appunto quando tu metti un impianto su un territorio e poi togli quell'implianto come modo per risolvere il conflitto in realtà l'ambiente è rilassato lo stesso e non ritorna come era prima neanche con una bonifica diventa un'altra cosa per cui in realtà quali sono dei conflitti un po' particolari e poi perché spesso sono lasciati alla gestione di rappresentanze molto strutturate e polarizzate da tutte e due le parti e quindi gli abitanti perdono tutt'ultima voce in capitolo di solito di solito è il proponente dell'intervento che se la vede con gli ambientalisti o con chi peresti spesso neanche locali ma nazionali e con i tecnici e con i tecnici di settore che sanno come si fanno quelle cose lì e quindi alla fine diciamo che la soluzione è una soluzione tecnica quella che si ricerca che va benissimo però appunto sono un po' di complesso no no infatti chi ha più coraggio chi ha più coraggio coinvolge anche l'abitante o chi sta nella zona e subisce le conseguenze di quell'intervento però deve essere molto coraggioso sono pochi i casi in cui in Italia si arriva a questo sono molti all'estero in Italia un po' più difficile per questo le ho lasciate un po' da parte perché richiedevano un ragione un aiuto un po' più fuori politici di continuare un po' diverso però assolutamente sì comunque ci sono anche loro sì e quindi va bene insomma il bagagio che avrebbe ritrovato in questi giorni dovrebbe ritrovare un po' con una cassetta molto classica che chiaramente con quegli strumenti ti consente di riaffrontare chi richiude nel ciclo è certo per le cose là voilà grazie 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 Sì, sì. Sì, sì. Tutto questo a me serve per sopravvivere, per sopravvivere tra gli altri, per creare delle soluzioni che si automantengono. E quindi intorno a questo valore della resilienza, gli strumenti che volano intorno, che io posso cercare di imparare, sono la facilitazione, il nuovo metodo di approfondire l'introspezione, il mio discorso dell'alimentazione, la fermaturtura, in particolare della fermaturtura, l'interesse più utile per tutto il resto dei transitionali. Buona persona, cresci, parla di risultati, perché iniziamo sotto, guarda, dentro. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Grazie. Sì, cucina, cucina. Sì, cucina. Sì, buona. È tornata. Grazie, grazie. Sì, grazie. Grazie. Sì, grazie. Sì, grazie a tutti. prendo appunti come lavora su di me e posso usare questa cosa. Nel processo partecipato, in questo spazio, cosa ne facciamo? Varie possibilità, e lì arriva un facilitatore, anche quando i processi di conflitto si conoscono. La mia famiglia, appunto, demanda, Gardia e Greta, sono più da esplorare che gli altri. Siamo tutti interconnessi, no? Perché impararlo a fare qua e qua e qua e viceversa, e poi tornano tutti. Perché poi diventa un pochino di un pezzo di teta, perché in realtà lo apri già tutto. È uno di quei lavori che è in situazione in cui lo apri più su facilità, la situazione a cui... Probabilmente la prima è più critica e rossa. È sicuramente che sei la mamma, ma un po' da avere creda che sicuramente sono più... Molto progettivo. Queste volte le fanno questo... Molto desiderio. Circolci di loro. Circolci di loro. Circolci di loro. Circolci di loro. Cioè, qui... Sì. E poi perché voglio... Cioè, tu sei molto dentro il conflitto, quindi spesso... Esattamente. Sì. Sì. Si parte l'angolo. Sì, sì. Più che... E tu sei un po' il conflitto. Ma, insomma, c'era bisogno che il conflitto. Non lo farà nessuno. È il conflitto. È il conflitto. A voi situazioni, ma anche immagini, ma anche idee. E per filtrarle attraverso di voi e trasformarle in qualche ingrediente in più. E poi ogni occasione buona per esercitarsi. Il mio consiglio è esercitatevi tanto. Sia che voi vogliate usare questa cosa per trasformarla in un lavoro vero e proprio come ho fatto io. Sia che vi possa servire semplicemente per voi stessi, per le vostre cose che fate. E però esercitatevi. Perché tenere in allenamento la parte destra del cervello aiuta tantissimo. Anche a essere più bilanciati. Anche a bilanciare la parte troppo logica, troppo presa dalle regole, dalla frenesia, dagli schematismi. E quindi, secondo me, fa bene alla salute di legnale. E in più, insomma, il colore crea anche, su questo potremmo aprire veramente un altro discorso, però crea anche molta più sinergia, più facilmente una sinergia nei rapporti. È un veicolo per far sentire le persone immediatamente più attratte, più coinvolte. Comunque ve lo usiate. Io l'avevo messo tutti i miei contatti. Chiamatemi, scrivetemi, venitemi a trovare, fate quello che volete. Siete benvenuti. Vi chiedo, se volete avere un po' di esempi, di guardarvi tramite Facebook o Pinterest, le pagine in cui io raccolgo tutte le esperienze che facciamo noi e che fanno tutti gli altri. Il nostro sito va un po' più a rilento, perché io perdo molto più tempo sulle altre cose. Quindi non cerco mai quelle che posso mettere sul nostro sito, mentre di là sbatto tutto, per cui trovate veramente di tutto, da tipi di font, a tipi di disegni, a tecniche, a materiali, a qualsiasi cosa di là in mente. Sia su Pinterest che su Facebook. C'è una pagina che gestisco io che si chiama Visuals, su Facebook, e lì metto tutto. Oppure c'è Graphic Recording, che è una pagina della comunità mondiale che fa facilitazione visuale. quindi non la gestisco io, però la seguo è un'ottima pagina. Quelle che vi ho messo sotto da cercare con Google sono due siti... ISVP è la nostra associazione mondiale di categorismo che si occupa della facilitazione visuale, e UBIT 2014 è stata la prima esperienza che abbiamo fatto in Europa, a Berlino, con tutta la gente del mondo che fa queste cose. Un grande confronto. E lì ci sono un sacco di tavole, disegni, cose che potete vedere e che vi servono da spunto. così come le mie tre cartelle su Pinterest, Scribing, facilitazione visuale, UBIT e libri. Io ho lasciato a Melania una dispensina micro che vi manderà con un pochino tutte le questioni che abbiamo affrontato il primo giorno per il disegno. Le ho lasciato alcune immagini di stimolo sulla questione dei conflitti. Vi manderò, perché il mio computer in questi giorni fa mai è caduto all'aeroporto l'altro giorno, quindi non va benissimo. Mi manderò invece un pochino anche uno schema, una piccola dispensina sulla questione della gestione dei conflitti, così poi voi potrete sommare le cose e per qualsiasi altra cosa, appunto, se avete bisogno, fatemelo sapere. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buon appetito. 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 Buon appetito.